Ciao ragazzi e benvenuti all'aggiornamento delle 19 ora adesso stiamo salendo proprio sopra la torre più alta che c'è a san giminiano si chiama torre grossa e si dovrebbe vedere tutto dall'altra adesso vediamo guardate giù quanti scalini che abbiamo fatto per salire andiamo adesso cosa si vede in teoria qua siamo arrivati andiamo oh c'è ancora uno più alto ma che vuole va che roba va che alti che bello vado ancora più in alto ah sì 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 ok ok va bene va bene un po' di più altissimi ragazzi siamo sopra San Gimiliano si vede tutto lì è il campanile andiamo a vedere di là quello in pratica è il Duomo altissimi